Musica Musica A bici sportivi, tivosi del Bari, ben ritrovati allo appuntamento con i bianchi e rosso a TV Sport. È il caso di dire indietro tutta, un passo in avanti contro il Crotone, due passi indietro contro la Regina. Ma cerchiamo di fare un'analisi approfondita che non può a mio viso non incrociarsi con il momento complessivo del Bari. Io ho una mia idea e adesso ve la esporrò, ma lo farò anche col contributo di due ospiti, oltre al classico Gigi Frisini, come vi dico noi. Il nostro ospite noto, lo chiamiamo così, è l'assessore al welfare del Comune di Bari, il dottor Lovico Abaticchio. Buonasera, buonasera a tutti. Mi ha detto, ma mi fai venire a parlare quando il Bari perde? Non so perché, mi chiami solo quando il Bari perde, questa cosa non mi va. Non ti va, va bene. Che giustificazione deve questa sconfitta? Io ho detto ieri a caldo, per questo Bari perdere con la Regina ci sta anche, tutto sommato. Ma non così. Non così, esatto. Indubbiamente è una sconfitta, non è che pesa, pesa per come ha giocato, per quelli che sono stati gli episodi che hanno portato poi al gol, almeno due su tre, della Regina. Sicuramente sono episodi, mi dispiace per la manna, per quella papera, però la manna, per esempio, è un portiere che non riesce mai a bloccare la palla, la respinge sempre. C'è quasi paura, secondo me, di parare e bloccare la palla a vecchia maniera. Sono stati episodi, diciamo, purtroppo disdicevoli, anche perché con un pareggio raggiunto, con quel bellissimo gol di Marotta, si poteva giocare un'altra partita. La fotografia del match, come sempre... La consolazione, il bel gol di Marotta, però un gol arrivato dall'1-2 fatto con De Paola. Poi le cose negative, ho rivisto, scusate, il paragone quasi riferente, Rizzat che mi sembrava Roberto Carlos di lontana memoria. Sono 4-5 gol che prendiamo in fotocopio e poi, ingiustificata, però è chiaro che alla fine il tecnico ha fatto le giuste considerazioni, il cambio di Rivas dopo 20 minuti, e poi sono 4-5 gol che li prendiamo in fotocopio. Uguale, va bene. Noi dobbiamo parlare anche di altri giocatori, dobbiamo parlare di Bogliasino, un fantasma in campo anche ieri al Granillo. Dobbiamo parlare di questo De Paola che va molto a corrente alternata. Io non vorrei che, ma ripeto, è un mio pensiero, e spero di essere smentito clamorosamente dei fatti, non vorrei che questa situazione societaria molto incerta, molto difficile, diciamo anche precaria, assolutamente precaria, non influisca proprio sui giocatori che proprio in carriera hanno avuto sempre la tavola imbandita, la tavola e il piatto pronto, e magari si avverta meno per quei giocatori che si affacciano per la prima volta in Serie B e che hanno quasi naturalmente fame di far bene, perché noi vediamo Marotta giocare in un certo modo, vediamo Borghese magari con dei limiti però mettercela tutta, e poi vediamo Bogliasino che francamente, io lo ricordo ai tempi del Napoli, era ben altro giocatore che adesso è veramente il fantasma di se stesso. Abbiamo visto anche De Paola che fa due o tre giocate e poi sparisce completamente dal campo. Abbiamo visto, non lo so, lo stesso Rivas sostituito dopo 20 minuti, Donati che sbaglia un teckel che era, come dire, era in vantaggio sull'avversario ed è entrato, come dire, un po' molle. Insomma, che riflessione fare? Ma io non credo che sia collegato al disagio della società, anche se comunque pesa indubbiamente questa situazione di non chiarezza, almeno dal punto di vista dei pagamenti e degli stipendi. Però rimane il fatto che Bari è una vetrina nazionale del calcistica, quindi chi gioca del Bari ha possibilità sempre di rappresentare le proprie tecniche, le proprie capacità e quindi pensare anche a un futuro calcistico più adeguato. Adesso Bari sta abitando un trampolino di lancio per tanti giocatori, diciamo che adesso sono stati anche diventati anche campioni del mondo. Certo, certo. E quindi possiamo rinegare questo. Ma io credo che indubbiamente sia una questione di preparazione, perché alcuni giocatori non sono in forma e questo significa che l'allenatore quantomeno debba ragionare un attimino sul piano insieme ai preparatori atletici, se è il caso di recuperare meglio qualche giocatore, tipo Gliacino o anche lo stesso centrocampo, che è abbastanza a correnti alternati. Alternati. Indubbiamente credo che su questo bisogna fare un aggiornamento serio, perché il Bari è, anzi io dico la Bari, perché a me piace dire la Bari, la squadra di calcio della Bari, ha le potenzialità per fare un buon campionato di Serie B, soltanto che credo che con quella panchina un po' corta avremo difficoltà, soprattutto al centrocampo. Io vorrei precisare, il mio non era un già chiuso nei confronti di questi giocatori, perché ad esempio Donati aveva giocato molto bene a Crotone e ci aveva messo il suo, però non vorrei che a lungo andare questa situazione possa pesare paradossalmente proprio sui giocatori che ripeto hanno avuto una carriera più importante. Sì, ma centrocampo Donati non può cantare e portare la croce, non può fare il regista difensivo e nello stesso tempo fare il regista offensivo. È chiaro che in questo momento a centrocampo stiamo pagando la mancata applicazione o il mancato inserimento di Bogliaccini, che era praticamente il giocatore che doveva coordinare un po' tutte le giocate, perché finora di giocate chiare in Porto non siamo arrivati, siamo arrivati ieri con l'1-2 di Paola Marotta e poi effettivamente a differenza della regina che è arrivato in Porta a tirare un paio di volte abbiamo fatto qualcosa quando ha giocato praticamente ha messo dentro Caputti e ha creato un po' di confusione anche perché loro dalla tre quarti in su è una buona squadra. Dietro li ho visti tranne i due terzini decisamente propositivi, la coppia centrale della regina mi è sembrata un po' squinterna. C'è un amico in linea, pronto?